Tanto rumore solo per non prendersi le proprie responsabilità e per distogliere l'attenzione da una questione delicata. Questa, secondo il consigliere di minoranza, nonché capogruppo di Io amo San Nicola, Filiberto Forestieri, la tattica del vice sindaco dell'amministrazione Mele, Eugenio Madeo, in merito ai vilieri effettuati dalla Corte dei Conti sul consuntivo del 2010. Questa delibera, ha spiegato Forestieri, è rimasta nel cassetto per molto tempo. Nel momento in cui l'opposizione ha chiesto delucidazioni, l'amministrazione ha pensato bene di sviare il discorso, formulando supposizioni che soprattutto Madeo avrebbe dovuto discutere prima nelle sedi istituzionali e poi sui giornali. Il capogruppo di Io amo San Nicola è intervenuto anche sull'uso improprio del finanziamento di 500.000 euro concesso nel 2009 all'ente altotirrenico dal Ministero dell'Ambiente e che sarebbe dovuto servire per opera a difesa del territorio. Anche in questo caso, ha detto Forestieri, Madeo ha sparato nel mucchio senza pensare troppo alle conseguenze. Se lui è davvero convinto di quello che dice, venga in consiglio comunale con le carte e ci illustri la situazione. E così sarà, visto che l'amministrazione Mele ha già fatto sapere che discuterà della vicenda nella prossima seduta del civico consesso. Da quanto spiegatoci dal vice sindaco Eugenio Madeo, i fondi ministeriali sarebbero stati utilizzati dall'ex gestione Donaddio solo in minima parte per le opere di messa in sicurezza del territorio. Il resto è stato usato per le spese correnti. Il problema, ha sottolineato più volte il vice del governo Mele, è che questi soldi potevano essere impiegati solo per questi interventi sul territorio. Un bel grattacapi, insomma. Il Ministero, infatti, vuole sapere quanta spesa e quali opere ha realizzato il comune di San Nicolarcella e se l'ente non riuscirà a giustificare tutto nel breve periodo, da Roma potrebbero chiedere la restituzione dell'intero finanziamento.